La comunicazione di avvio del procedimento è uno degli strumenti di partecipazione al procedimento amministrativo previsti dalla legge 241 del 90, insieme alla facoltà di intervento nel procedimento, al previso di rigetto e alla possibilità di stipula di accordi integrativi o istitutivi del provvedimento. Sappiamo che il procedimento amministrativo si articola in diverse fasi, che sono la fase di iniziativa, la fase istruttoria, la fase decisoria e la fase integrativa dell'efficacia. La comunicazione di avvio del procedimento si va a collocare nella prima fase, appunto la fase di iniziativa. La legge 241 del 90 prevede che laddove non sussistano delle particolari esigenze che derivino da ragioni di celerità di svolgimento del procedimento, Allora, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a dare comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti, nonché ai soggetti che per legge devono intervenirvi. La comunicazione di avvio del procedimento deve essere effettuata anche di quei soggetti individuati o facilmente individuabili che potrebbero ricevere un pregiudizio da parte del procedimento stesso. Nel 241 del 90 è detta poi il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento, comunicazione che deve essere, diciamo, personale e il cui contenuto è dettato dall'articolo 8. Nella comunicazione di avvio deve essere indicata l'amministrazione procedente, l'oggetto del procedimento, il domicilio digitale dell'amministrazione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento. Devono essere indicati altresì il punto di accesso telematico e il fascicolo elettronico attraverso i quali è possibile prendere visione telematicamente degli atti del procedimento, nonché laddove, diciamo, non sia possibile prendere visione in modalità telematica, deve essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione cartacea dei documenti. Inoltre, la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l'indicazione dei termini entro i quali il procedimento deve essere concluso, nonché dei rimedi esperibili nel caso di inerzia da parte dell'amministrazione. E laddove poi, diciamo, la comunicazione di avvio del procedimento viene resa, diciamo, difficoltosa a causa del numero dei partecipanti, oppure perché questi, diciamo, non sono facilmente individuabili, allora è a quel punto è possibile che le amministrazioni prevedano, diciamo, di volta in volta degli strumenti attraverso, diciamo, i quali portare, diciamo, a conoscenza degli interessati l'avvio del procedimento, come per esempio, diciamo, possono essere i canali social oppure la pubblicazione delle notizie nel sito e internet. L'omissione, comunque, di queste comunicazioni può essere fatta valere, comunque, soltanto da parte del soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Dobbiamo notare, però, una cosa molto importante, che nonostante, diciamo, la comunicazione di avvio del procedimento sia prevista dalla legge, la sua mancanza non è causa di annullabilità del provvedimento amministrativo. Infatti, non è sempre causa di annullabilità del provvedimento amministrativo. Infatti, l'articolo 21 Oxies della stessa legge 241 prevede che, diciamo, il provvedimento non sia annullabile laddove l'amministrazione dimostri che il provvedimento non sarebbe stato diverso da quello, diciamo, concretamente poi adottato, da quello poi concretamente adottato. I soggetti che partecipano al procedimento amministrativo hanno diversi diritti, che sono quello di prendere visione degli atti del procedimento e questo è quello che noi potremmo definire il diritto di accesso infraprocedimentale, che va tenuto distinto dal diritto di accesso documentale, previsto, invece, dagli articoli 22 seguenti della legge 241. Quest'ultimo diritto di accesso prevede la facoltà per il soggetto interessato, oltre che di prendere visione degli atti del procedimento, anche di estrarne copia, cosa che invece non è prevista nel diritto di accesso di cui è l'articolo 10. Inoltre, gli interessati hanno la facoltà anche di produrre, i partecipanti meglio al procedimento, hanno la facoltà di produrre delle memorie scritte e dei documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di prendere in considerazione laddove siano pertinenti all'oggetto stesso del procedimento. Un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che al procedimento possono intervenire non soltanto i soggetti ai quali è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento, ma anche tutti i portatori di interessi comuni, di interessi privati o pubblici, nonché i portatori di interessi diffusi che sono però costituiti in associazioni o comitati che potrebbero subire un pregiudizio dal provvedimento. Molto importante poi è come strumento di partecipazione il preavviso di rigetto che è della legge 241 del 1990 e denominata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Infatti dobbiamo dire che gli strumenti di partecipazione sono molto importanti nel nostro ordinamento perché fanno sì che si vada a instaurare un rapporto dialettico tra la pubblica amministrazione e il cittadino e sono degli strumenti deflattivi del contenzioso. Pertanto, nel caso del preavviso di rigetto, l'amministrazione comunica quelli che sono, prima di adottare un provvedimento formale negativo, comunica all'interessato e dobbiamo notare che in questo caso la comunicazione va fatta al solo istante e non anche agli altri partecipanti al procedimento e comunica i motivi che ostano all'accoglimento della domanda dando al soggetto dieci giorni di tempo durante i quali possono essere prodotti sia scritti difensivi che dell'integrazione documentali dando quindi la possibilità di regolarizzare una situazione che altrimenti sarebbe stata valutata negativamente. La comunicazione di avvito del procedimento poi non è prevista nei casi in cui i procedimenti sono destinati, finalizzati all'emanazione di atti normativi oppure atti di pianificazione e di programmazione nel procedimento terbutario.